Buon pomeriggio amici e amiche di Scambiavolmente, ci avviciniamo alla prima live dell'anno domani sera ore 21, l'ultima fatica di Vilma Coero-Borga, scrittrice stimata su Scambiavolmente, scrittrice nota su Scambiavolmente, scrittrice apprezzata e conosciuta su Scambiavolmente, io sono contentissimo di aprire con lei il 2023, scrittrice che si è fatta promotrice di riunire qualche scrittore errante in giro per le fiere del territorio, soprattutto dal centro-nord, e Vilma rompe un po' gli schemi col passato, questo libro che si chiama Rinaldo e il mistero del calice avvenenato, l'editore è Pav, Pav Edizioni, rompe gli schemi perché soprattutto è un libro per tutti, veramente, per i lettori dai 6 ai 99 anni, è un libro che ha già vinto un premio, premio Luigi Pirandello, Accademia Internazionale, il convivo, diploma d'onore, l'assignalazione di merito narrativa in ETA 2022. Soprattutto è un libro ad alta leggibilità perché è un libro scritto, formattato, organizzato e composto per essere letto anche da chi è affetto da dislessia. Vi leggo la quarta di copertina, dice in un piccolo paese a pochi chilometri da Pavia, Diego e Francesca scoprono le vicende e i segreti del castello del luogo in cui abitano. Entrano e vengono sopraffatti dalla curiosità, grazie a un bibliotecario che li guida all'interno dell'edificio che oggi è una villa. Non appena l'uomo dischiude il cancello per i due compagni di scuola si apre un percorso nel tempo, attraverso il quale scoprono i segreti nascosti tra le mura di quella di More e persino la storia sentimentale del cavaliere Rinaldo, figlio un po' scapestrato del proprietario del maniero che dovrà proteggere l'amore per Isabella da un malvagio e insospettabile personaggio. Sono coinvolti dagli intrighi di corte, la curiosità li spinge a seguire una pista e entrare nella storia e sveglia l'interesse di guardarsi intorno col stupore attraverso un'avventura appassionante e istruttiva, mentre qualcuno li aspetta con impazienza. è un libro che nasce diciamo come libro per ragazzi ma non si rivolge solamente ai ragazzi ma anche e soprattutto agli adulti che possono imparare tanto, soprattutto fatti storici. c'è un libro con delle bellissime illustrazioni inedite, è un libro che man mano si va avanti nella lettura in colla, assolutamente lì e viene voglia di andare fino in fondo, è un libro che si legge dove parla e domani ne parleremo, dove parla di quanto è importante per appassionarci alla storia di ascoltare e leggere la storia della storia, perché solo attraverso la storia della storia probabilmente riusciamo a appassionarci invece che a studiare date, luoghi e accadimenti. domani Rinaldo e il mistero del calice avvelenato, Vilma Coeroborga, scambievolmente, tanto io vi auguro un buon 2023, come ho scritto scaldiamo i motori, sarà una serata dove parleremo di tantissime cose e quindi vi invito a stare con noi la sera precedente all'Epifania. Buon proseguimento e a domani.